segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora belle cose abbiamo appena iniziato allora la prima domanda che ti faccio adesso faccio due domande subito in una e la prima che un po figlia di queste queste reazioni è tu per la tua ci diamo del tua per la tua storia personale e professionale qual è stata la prima reazione che hai avuto perché non è che di super la di tanti se ne prendono tanti diciamo ce ne ricordiamo tre negli ultimi negli ultimi anni soprattutto rina provenzano adesso messina denaro la prima reazione che hai avuto proprio quella istintiva e la seconda cosa che invece ti chiedo con meno istinto ma più sulla ragione è che impressione ti sta facendo questa settimana diciamo mediaticamente dedicata alla mafia questa è la settimana della mafia abbiamo avuto il periodo del covid poi abbiamo avuto tutti esperti di ucraina adesso in questo momento parliamo tutti quanti di mafia noi compresi lo stiamo facendo diciamo con le competenze del caso la prima reazione è stata di contentezza è ovvio l'hanno preso e c'è la dimostrazione non è vero che ci sono gli imprendibili che ci sono gli invincibili quando lo stato fa sul serio li prende e questo non è poco quindi è una è stata una proprio la liberazione da un da questa cappa di impotenza che grava però d'altra parte io da alcuni mesi coglievo i segnali diversi mesi negli ultimi nei seminari nei convegni in cui presenziava qualche ufficiale dei carabinieri e qualcuno poneva il problema di messina denaro la risposta era sempre la stessa ci stiamo lavorando lo prenderemo quindi c'era un lavoro alle spalle lungo sistematico che sapeva che sarebbe riuscito a raggiungere l'obiettivo così è stato e ho rivisto anche tutte quelle risposte in un'altra luce cioè stava dicendo non potevano dire di più ma erano sicuri di prenderlo e l'impressione invece su sulle cose che si stanno dicendo le tante cose sul dibattito le varie opinioni francesca accennava per esempio al dibattito sulle intercettazioni ma anche sui 30 anni di latitanza dal tuo punto di vista insomma tu hai dedicato una vita a questa materia essendo la settimana la settimana della mafia viene fuori di tutto è come un pentolone che butta fuori anche tutti gli umori si capisce che c'è una società che è disposta a non parlare di mafia per anni e poi quando c'è l'occasione di parlarne senza saperne nulla esprimere le sue opinioni ora intanto questo lasciamelo dire l'idea che i mafiosi non parlano più al telefono ma basta prendere un'ordinanza di custodia cautelare per vedere quante cose si dicono tra di loro io ne ho trovata una recentemente a milano in cui un boss dice a un'altra persona al telefono e beh sì io in effetti sono un capo mafia di bucinasco scusa lo dice lui non ci sono le prove lo dice lui quindi è veramente non so è fuori dal mondo dire che i mafiosi non parlano tra di loro e non non aiuta il dibattito il telefono lo usano con più o meno cautele poi l'idea che mi fa arrabbiare perché questa è veramente prova di di ignoranza militante direbbe qualcuno ma adesso è ancora peggio di prima perché lo hanno preso ma ce n'è subito uno al suo posto e non sappiamo chi è almeno prima sapevamo chi c'era quindi sembra veramente di essere in un mondo di pazzi ma il bello ma è una gioia è che dagli anni 80 le sento dire queste cose c'è subito uno al suo posto come se fosse un capo ufficio dice ma chi mettete ne abbiamo messo un altro ma per fare un capo di mafia un capo mafia ci vogliono anni e anni il capo mafia ha un suo patrimonio di di fedeltà personali ha un suo carisma non sia biografia violenta che lo legittima presso tanti interlocutori ha una sua capacità organizzativa a tante relazioni politiche istituzionali non è che preso un mafioso un capo mafia se ne mette un altro questo è assurdo e poi vorrebbe dire che non bisogna prenderli mai perché una volta preso ce n'è un altro è sconosciuto per giunta è peggio questo sentire un dibattito così è veramente deprimente ascolta grazie mille grazie mille